C'è anche il direttore generale del Policlinico Riuniti, Vitangelo Dattoli, tra le persone finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della Procura di Foggia su dei presunti appalti truccati nel campo della sanità. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti all'alba di questa mattina dalla Guardia di Finanza su ordine del Tribunale del Capoluogo Dauno. Assieme al direttore generale sono state sottoposte ai domiciliari altre cinque persone. La dirigente dell'ASL di Foggia, Rita Acquaviva, il dirigente del Policlinico, Costantino Quartucci, gli imprenditori Roberto e Roberta Pucillo, padre e figlia, e il medico in pensione, Antonio Apicella. Gli indagati rispondono a vario titolo in concorso tra loro dei reati di turbativa d'asta e falso ideologico. I fatti contestati si riferiscono al periodo 2019-2020, quando sarebbero state manipolate due gare d'appalto bandite da enti pubblici foggiani operanti in ambito sanitario. La prima riguardava l'affidamento del servizio di elisoccorso ordinario per oltre 36 milioni di euro nel primo quinquennio, più altri 30 per l'eventuale proroga. L'altra relativa all'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed equip medica per attività di prelievo e trapianto organi. Questo per un impiego di spesa pari ad oltre 2 milioni e mezzo di euro nei primi cinque anni, estendibile in caso di proroga fino a 4 milioni e 600 mila euro. In base all'ipotesi accusatoria, i vertici ed i rappresentanti ufficiali degli enti pubblici committenti avrebbero favorito una società foggiana operante nel settore del trasporto aereo, creando, attraverso l'intermediazione del medico in pensione, una corsia preferenziale per vincere gli appalti. Circostanza che, tuttavia, non è mai avvenuta perché in entrambi i casi i servizi sono stati poi affidati ad aziende concorrenti della società in questione. Nonostante ciò, secondo l'accusa, le gare sarebbero state comunque alterate.